Amici di Battista 70 Fon abbiamo qui il P8 Max di cui per ora non è prevista la commercializzazione in Italia leggiamo un po' le caratteristiche, è un dual sim ma da noi se arriverà arriverà la versione mono sim, nano sim più micro SD come potete vedere è un display da 6 pollici e 8 in full HD 1920x1080, stesso processore del P8 normale stessa cam Android, 3 GB di RAM, 64 GB di ROM, possibilità di espanderlo fino a 128 GB, 4360 mAh lo spessore anch'esso è di 6,8 mm, possiamo vedere è davvero molto sottile, le dimensioni sono impegnative ripeto 6,8 mm, come vi dicevo la cam è a 13 megapixel stabilizzata scusate adesso qui non so che diavolo è successo, facciamo un cancel possiamo vedere che comunque è una buona maneggevolezza perché è molto leggero però sinceramente da usare con una mano è piuttosto difficoltoso che dire è un dispositivo che è stato definito anche borderline per le dimensioni abbastanza importanti ripeto per il momento non si sa ancora se arriverà in Italia in ogni caso ci sono già le cover, queste cover bucherellate attive e un display che devo dire è veramente molto ben definito e luminoso con questo concluso saluto da Loris all'ESBATISI70 per l'ESBATISI70 a fondo